La pedalata cicloturistica di solidarietà in bici contro il dolore, ideata e promossa dall'Associazione Amici della Fondazione Isal, che ha lo scopo di raccogliere fondi destinati alla ricerca sul dolore, si è svolta quest'anno nella cornice meravigliosa del Parco Nazionale della Maiella, sul percorso ad Anello, Campo di Giove, Pesco Costanzo, Canzano Campo di Giove, tra boschi, altipiani, borghi e montagne. Sono molto contento perché vedo che c'è una grande partecipazione di ciclisti che sono venuti in massa per continuare a sostenere la Fondazione Isal, ricerca sul dolore, perché in bici contro il dolore questa bellissima manifestazione giunta alla quinta edizione è stata ideata, organizzata da me, dal compianto Fernando Ranalli, proprio per sostenere la Fondazione Isal nella sua attività di ricerca, volte ad aiutare i malati di dolore cronico, che in Italia sono oltre 15 milioni. E vedere una partecipazione così numerosa in questa giornata, che è una giornata di solidarietà, ma anche una giornata di serenità, credo che sia una bellissima soddisfazione per me, una bellissima soddisfazione per tutti coloro che con me hanno condiviso questo impegno. È davvero una bellissima manifestazione, è davvero bello fare queste esperienze e fare questa attività per una giusta causa e una missione nobile come questa. Tanta gente! Sì, davvero tanta gente, hanno risposto davvero in tanti a questa bellissima manifestazione. Sono orgoglioso di poterla organizzare insieme all'Isal, grazie al dottor D'Andrea che mi ha dato questa opportunità di poter vivere questo momento di cicloturismo e di beneficenza. Sempre una grande partecipazione. Noi abbiamo dei scenari e dei percorsi stupendi e organizzare questi eventi è sempre una cosa positiva. Siamo onorati di collaborare con il dottor D'Andrea per questa manifestazione cicloturistica con la finalità della beneficenza verso la ricerca contro il dolore e a favore dell'Isal. E quindi siamo onorati di collaborare e dare una mano come Panatron in un evento dove lo sport, l'amicizia e la convivialità la fanno da padrone. Quindi sono principi che si sposano con il Panatron e quindi siamo veramente onorati di collaborare per questo evento.